Buongiorno Grazie a tutti. 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 No, no, non lo toccate. No, no, no. Vete la reazione? La reazione chimica riduce la acidità. So, the sauce becomes more sweet, less acidità. No, si no, come si vuoi in un panico? No, no. It's very nothing because they use for many times. Some, one boil for three, four hours. ma è sufficiente per noi un'ora ok, quindi controllo Ciao a tutti Buongiorno in Italia Buongiorno 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 in the Philippines Asisi, Asisi We are coming We are coming Asisi Mag-vlogger ang mga gore Pasensya na gan mo guys Kaya usahe di dun Mama oh Kaya practice pa gondi Sige lang ginag-practice Ok, see you later on Asisi Disi Karaanna disini Lugar Karana disini Nga lugar Karaanna disini Bungalai Parking area Lugar andiamo azzurri 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 merah i cattini i cattini i cattini i cattini i cattini azzurri edo con le stones, non bric, eh? Mmhm. Stones. Look, look, look. Ilang mga balai. Made of stone, siya. Diligi siya brics, oh? Ano, ragazzi, guys, oh? Oh, no. Can you see me while I'm asleep to the group? un'abbia che lei awa un'illang simbahan noi è molto bello Aisha è stato fatto in Japan in cui c'è la parte del piscale e la parte del piscale è parte del piscale è la parte del piscale è la parte del piscale è la parte del piscale qui la caglasia caglasia glas 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 lindut yukaila mga sembahan guys that is the road and what's going there you understand a 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 simbahan mi san francisco of assisi a 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